Ben ritrovati, buongiorno a tutti, questa è la Rassegna Stampa di Fano TV, occhio ai giornali come tutte le mattine, siamo in diretta. Allora partiamo dalla Santa di oggi perché oggi è Santa Lima, parliamo della prima santa dell'America Latina che morì nel 1617, vale la pena un attimo soffermarsi perché questa bambina, ragazzina, sentì presto parlare di Santa Caterina da Siena per esempio, a 15 anni pensate decise Santa Rosa da Lima di non mangiare più la carne, di notte camminava per il giardino di casa portando sulle spalle una pesante croce, insomma fece tanti sacrifici accompagnati da tante penitenze. A 20 anni diventò terziaria domenicana e nel 1617 appunto morì diventando presto popolare anche in Europa. Il sole sorto alle 6.21 e tramonterà alle 8 in punto di questa sera. Allora vediamo adesso il tempo, la protezione civile delle Marche come di consueto sul suo sito internet ha pubblicato il bollettino per i prossimi giorni, compreso il giorno di oggi, mercoledì 23 e come vedete oggi avremo una giornata di sole splendente su tutta la nostra regione. Il mare sarà quasi calmo o poco mosso nel primo pomeriggio. Per quanto riguarda la giornata di domani invece qualche nuvolo in più, soprattutto nella parte dell'entroterra, sui rilievi appenninici, per il resto invece avremo sole con temperature in lieve aumento. Il venerdì qualche nuvola anche sulla costa adriatica, limitatamente al centro nord, ancora nuvole sulla parte appenninica, le temperature ancora in lieve aumento. Sarà tempo buono comunque soleggiato anche per il resto dei giorni, quindi il resto del fine settimana. Andiamo a vedere i giornali, allora cominciamo dal Corriere Adriatico che in prima pagina pubblica la fotografia di questa donna, una delle due vittime del terremoto dell'isola di Ischia, l'isola delle vacanze, un'infermiera marchigiana. Tra le vittime la casa lei è crollata addosso, lei è restata travolta dalle macerie. Poi la sicurezza, la sicurezza dei prossimi giorni nella città di Pesaro perché a Pesaro ci saranno i campionati del mondo di ginnastica, così come la kermess politica del Partito Democratico. Ebbene, insomma, eventi, manifestazioni anche fiere, insomma, c'è la disposizione da parte della Prefettura di Pesaro Urbino di tenere tutto sotto controllo con una macchina della sicurezza davvero imponente che si è messa in moto ed è stata anche potenziata dopo le ultime disposizioni ministeriali per l'allerta antiterrorismo. Disposizioni rigide e ben precise che sono arrivate sul tavolo di ogni Prefettura. E di questo parla il resto del Carlino, mondiale di ginnastica e festa PD, giro di vite sulla sicurezza, barriere negli accessi agli eventi, rinforzata la security, controlli serrati, poi attenzione la richiesta ai noleggiatori di furgoni di non consegnarli senza l'autista. A centro pagina invece la fotografia è per il provino dei profughi, perché oggi nel campo di Morciola ci sarà la selezione, verranno selezionati 110 richiedenti asilo politico, ci saranno degli osservatori, in palio un contratto da calciatore. Poi si parla dei numeri del Festival Rossignano, un milione di incasso e 16 mila presenze, dunque chiude così un'edizione storica e la cronaca in primo piano rapinò 2000 euro alla ex compagna, l'arma dei carabinieri lo arresta Ravenna, si fermava ogni tanto nella casa della donna, si tratta di un 27enne che fuggì dopo averla picchiata. Ma nelle pagine interne potrete trovare sul Carlino anche la fauna urbino, ciclabile e rotaie vicine, sì forse è possibile e poi le multe a Baia Flaminia, a Pesero, i vigili sono in agguato, prese le targhe di autoveicoli e di motociclette. Allora la notizia a pagina 12 del Corriere Adriatico di oggi è su un quarantenne, un quarantenne che è stato ricoverato con il morbillo al San Salvatore di Pesero. L'uomo si è presentato domenica sera al pronto soccorso, è nel reparto malattie infettive, le sue condizioni non sono ritenute preoccupanti, l'Asur però ha avviato una indagine epidemiologica. Tra l'altro il caso di questo quarantenne segue di poche settimane, lo ricorderete, quello di un altro pesarese che aveva contratto il morbillo. La situazione però in quel caso destava preoccupazione maggiore perché? Perché il paziente era entrato in contatto con circa 250 persone, parliamo di quel trentenne che sta facendo la stagione in un albergo sulle Dolomiti. La pagina di Fano è sulla fiera di San Bartolomeo, domani è San Bartolomeo, la chiesa lo ricorda, inizia questa due giorni, non sono più tre ma sono due giorni, c'è un giorno in meno anche su richiesta proprio dei commercianti. La fiera però come di consueto è blindata perché dove c'è un assemblamento di tanta gente come è la fiera appunto in questo caso, la prefettura chiede necessariamente, così come è successo con il Carnevale di Fano, avete visto, chi se lo ricorda, in New Jersey, quelle barriere in cemento messe nei punti di accesso proprio per garantire la sicurezza visto il tempo e il periodo che stiamo vivendo. Barriere e mezzi della protezione civile, scrive il giornale, negli accessi principali, dopo i fatti di Barcellona scattano le misure antiterrorismo. L'assessore Carla Cecchetelli dice New Jersey e mezzi della protezione in via Ruggeri, in via Battisti e sul lato del porto. Stessa notizia sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, qui però ci soffermiamo un attimo sulla scheda dei dati di questa fiera, i giorni dicevamo della fiera di San Bartolomeo a Fano sono due, venerdì 25 e sabato 26, da tre giorni che erano fino all'anno scorso, dunque siamo passati a due. 17 invece le ore quotidiane di vendita, dalle 7 alle 24, 270 gli espositori, sono 40 in più rispetto ai 230 dell'anno scorso, 4 le vie della zona mare che sono coinvolte, sono Viale Adriatico, Viale Lighieri, Viale Battisti e Viale Colombo. 520 invece sono gli anni della fiera, la fiera di San Bartolomeo di Fano ha 520 anni dalla nascita che è l'8 aprile del 1497. I carristi, il problema del carnevale di Fano, il problema che più o meno riscontriamo un po' tutti gli anni, quello dei soldi, i carristi per fare i carri hanno bisogno dei soldi, hanno bisogno dei fondi, quindi l'ente carnevalesca deve staccare l'assegno per poter fare iniziare intanto i progetti, i bozzetti e quant'altro e poi la realizzazione vera e propria, quindi l'acquisto dei materiali e tutto il resto. Ebbene, i carristi sono ancora al verde, non hanno ricevuto i soldi, loro incrociano le braccia, Mariotti dice senza il saldo nessun progetto per il carnevale futuro, mancano 18 mila euro e ci sono due mesi di ritardi, quindi 18 mila euro ma due mesi di ritardi, insomma poi gennaio arriva presto. Andiamo sull'altra pagina del resto del carlino, perché? Perché a frontone a un certo punto si è presentata la coppia più famosa, una delle coppie più famose e discusse d'Italia, ovvero Francesco Totti, il campione della Roma e Hillary Blasi, la modella conduttrice televisiva. Ecco il giornale, Totti e Hillary in vacanza tra frontone e Catria, la coppia è tornata nella casa nativa della Blasi perché Hillary Blasi ha una casa lì dei genitori, ce l'ha a frontone e ieri l'altro giorno sono andati all'ora di cena in un locale dove chiaramente sono stati subito riconosciuti, si sono presentati quindi foto, dediche e quant'altro e poi è andato a pranzare indisturbato al rifugio delle Cotaline che si trova a 1400 metri di altitudine in compagnia dei figli, siamo sul Monte Catria. Urbino, questo è interessante perché Urbino può diventare la capitale italiana ed europea dell'innovazione tecnologica e del digitale. Ne sono convinti due urbinati, il professor Flavio Vetrano, ex prorettore alla ricerca dell'Università di Urbino e Oscar Cangiotti che è un ex docente di progettazione industriale che hanno formulato un progetto in cui sono coinvolti la multinazionale EconoCom e Assinform. E potrebbe essere davvero interessante vedere nella vicina Urbino la tecnologia nascere e svilupparsi. Poi la storia invece che ci riporta molto con i piedi per terra purtroppo e che ci fa capire come possiamo pensare tutte le cose più belle fantascientifiche del mondo ma poi alla fine chi decide tutto per chi ci crede è il buon Dio e quando chiama, chiama. Lucia, la storia d'amore e di coraggio, dal letto dell'ospedale aiutava gli altri. Ancona uccisa dal tumore a 39 anni, in corsia sosteneva i malati. Fino a due giorni prima di morire ha fatto consulenze gratuite dal suo letto d'ospedale consigliando alle malate oncologiche del suo stesso reparto come muoversi nell'intricato mondo dei sostegni e dei permessi per la malattia. Parliamo di questa anconetana di 39 anni, guardate questa splendida fotografia a tutta pagina sul giornale di questa mattina. Lucia Lanari, dicevo, 39 anni, madre di due bambini di 5-7 anni, un marito che la adorava e un lavoro di consulente al patronato di Ancona. Il lavoro che per lei era diventato una missione, ha chiuso gli occhi per sempre l'unidì scorso per un brutto tumore al fegato. Una storia che ci ricorda un'altra storia per chi l'ha conosciuta di un'altra ragazza qui di Fano che più o meno ha avuto una storia simile e che ha chiuso gli occhi più o meno nello stesso giorno. La pagina di Fano del Corriere Adriatico, ma che vendite? Il patto a Ricci l'ho proposto io, dice il sindaco di Fano Massimo Seri e premia Fano, ne è convinto, il sindaco che rivendica il merito dell'accordo con il sindaco di Pesaro e respinge le critiche. Dice, prima di parlare, leggete il documento. L'intesa firmata con il capoluogo pesarese aumenta le potenzialità, secondo Seri, del territorio, quello di Fano, agganciandolo al treno di Pesaro. Certamente un treno che sta andando, è un frecciarossa, uno degli ultimi modelli, quelli che vanno veloci, spediti, è inutile nascondercelo. Non so se ha fatto bene o ha fatto male, non so esattamente. C'è questo documento, giustamente è inutile parlare senza aver letto quello che c'è scritto. Prima bisogna leggere, bisogna informarsi, poi si parla, altrimenti si sparla e si parla a vanvera. Il testo da oggi sarà comunque su Facebook, quindi su internet potrete leggere. Il sindaco Seri invita tutti i cittadini a informarsi sul merito di questo accordo Fano-Pesaro, o Pesaro-Fano, ma Fano-Pesaro, firmato il 3 agosto con l'amministrazione comunale di Pesaro, consultando direttamente il documento e annunciando che da oggi sarà pubblicato sulla pagina Facebook Massimo Seri, sindaco di Fano. Quindi se volete leggerlo dovete digitare nel campo di ricerca di Facebook Massimo Seri, sindaco di Fano e lì troverete questo documento. Ma l'opposizione a Fano attacca, dice, nasceremo tutti i pesaresi e nasceremo tutti a muraglia, i 5 stelle sull'accorpamento nel nuovo ospedale di ostetricia e pediatria. Ballo abusivo, l'altro argomento di cui si discute in questi giorni a Fano. Ballo abusivo rischi per l'incolumità. Ecco le contestazioni dei carabinieri alla gestione in simbiosi di Arzilla Beach Village e Chalet del Mar. Due locali che si trovano proprio a due passi dall'acqua, dal mare, in una zona certamente non molto felice, non ci sono gli spazi. Se dovesse succedere qualcosa, lì è una strage perché metterci più di mille persone in un così tanto poco spazio, diciamocelo francamente, è inutile nasconderci dietro un dito, va bene il turismo, va bene tutto, ma se succede qualcosa lì era una strage. Non passano le ambulanze, non passano i mezzi di soccorso, non passa assolutamente nulla. Passa solo il treno, ma che quando passa fa ciacco la manina e è come se non ci fosse nulla. Quindi questo è un problema serio. Il problema poi, certo, per chi deve garantire un po' di animazione in una città per chi deve fare turismo, eccetera, uno fa finta di non capire, fa finta di non vedere, però di fatto il problema è questo. Non è che i carabinieri, penso che i carabinieri non si divertano a chiudere un locale, non è un fatto personale, è perché effettivamente probabilmente lì ci sono problemi, adesso non so l'abusivismo, queste cose qua, non lo so, però certamente gli spazi non ci sono per tutta quella gente lì, ce n'è veramente tanta. E allora, questo è il titolo e questo è l'articolo sul Corriere Adriate. Andiamo a Urbino, velocemente, Gambini, ancora Gambini, sindaco di Urbino, che continua il suo botte risposta con gli organizzatori della festa del Duca. Basta personalismi, dice, questa festa è di tutti, il sindaco sbotta, Ars Ducale, cioè l'associazione che organizza, non è avulsa dal comune, anzi ne è una costola. Accorpamento che errore, la scuola perde posti e classi. Siamo a Fossombrone, a Fossombrone l'opposizione accusa il sindaco dei 5 Stelle Bonci, avremo meno Bidelli e avremo meno docenti. I genitori protestano per la settimana corta, che partirà alle medie e alle elementari. Poi, aquile da tutta Italia a volteggiare sul Monte Nerone, grande successo per il raduno dedicato ai rapaci. L'altra pagina, invece, quella della Valle del Cesano, è questa, un'altra di quelle che è proprio tutta italiana, è una storia tutta italiana, uno fa una cosa e subito c'è chi rema contro. In questo caso, parliamo di queste strisce pedonali un po' particolari, le vedete sulla fotografia, vi abbiamo fatto vedere anche in un servizio qualche giorno fa, sono strisce pedonali colorate, hanno fatto un po' il giro del web in tutta Italia, e sono le strisce pedonali che si possono notare, vedere, attraversare a Marotta. Ok? Allora, si parla di street art, tutte queste cose qua. Ecco, le strisce pedonali, secondo la consigliera rappresentante dei 5 Stelle, non è legale, quindi scrive al prefetto, immagina con le lacrime agli occhi, la segnaletica è pericolosa, infatti credo che siano morte centinaia di persone attraversando le strisce pedonali, almeno così, però diceva, va rimossa, ma non solo rimossa, ma anche sanzionata, giustamente, i soldi dei cittadini bisogna, no? Quindi facciamo pagare al Comune con i soldi di tutti per questo scempio, guardate che roba, cioè, figuriamoci se uno, vabbè, comunque, questo adesso è sarcasmo, insomma, da bar, però, insomma, questo è. Aggredita una giovane, siamo sulla pagina di Senigallia, aggredita una giovane barista, paura nella notte dei fuochi, ieri ci sono stati fuochi d'artificio, lo spettacolo pirotecnico a Senigallia, una stranottata da due, insomma, una bella serata, però, insomma, c'è stata questa giovane che è stata strattonata, aggredita da due parcheggiatori abusivi ai giardini morandi e poi c'è stata la fuga tra la folla. Ma si parla poi delle uova sequestrate, 26.000 uova contaminate, subito bloccata la vendita del prodotto, siamo in un'azienda di Ostravetere in provincia di Ancona, e poi l'ultima notizia che fa sorridere, perché è un po' sembra una commedia dei vecchi tempi, cosa è successo? La racconta stamattina il Corriere Adriatico. Allora, siamo a Senigallia, il tassista che accompagna Pupi Avati, famoso regista, in hotel, parla male del sindaco, ma non si accorge che in auto c'è anche un assessore. E allora l'assessore chiaramente ha avvisato il sindaco Mangialardi, che ora dice, ora caro tassista ti denuncio. E c'è tutta la storia sul Corriere di questa mattina. Ok, ci fermiamo qua, grazie per averci seguito, l'informazione torna questa sera alle 20.30 con occhio alla notizia. Se volete segnalarci le notizie, se volete segnalarci quello che accade attorno a voi, il numero di telefono è il 338 4968 250. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti. Grazie per averci seguito,